Non solo perché è divertentissimo, ma perché, signore, abbiamo iniziato un nuovo mese e con questo mese anche un nuovo trimestre, quindi nuovi obiettivi. E oggi ci giochiamo la finale di Coppa di Svezia contro il Malmo, una squadra decisamente non alla nostra portata, assolutamente, con, tra l'altro, un malus attivo, ovvero quello di non poter utilizzare il giocatore con il quale mi sono trovato meglio prima di 60 minuti. Ecco, dopo il sessantesimo posso farlo entrare e ho fatto un sondaggino sul mio profilo Instagram, venitemi a seguire riccardo menzolini-basso e coach.menzo, trovate il link in descrizione. In questo momento, ragazzi, sta vincendo Vede, ok? Ho inserito Erlanson, Vede e Facchi Neri. Vi dico la verità, io in realtà i dubbi ce l'avevo più che altro su Erlanson, che è uno di quelli che ha fatto più la differenza in questo momento, o in questo momento. Però effettivamente Vede è quello che lì a centrocampo mi fa più la differenza, quindi io lo panchinerei e farei giocare Mikkelsen. Anson ce lo teniamo come arma di riserva. Gliela facciamo fare sta partitella a Kizzito, dai, facciamo fare 45 minuti a Kizzito, che me la butta nel sacco e poi si va, signori. Possiamo andare in campo. Se andiamo a giocare il nostro primo trofeo ricordiamoci che se dovessimo vincere questa coppa... Ma Demi non può giocare in queste condizioni, ragazzi. Ma Demi non può giocare, che già è scarsissimo. Non so se è proprio il momento per fare esperimenti, ma facciamo questi esperimenti, va bene? Finisce malissimo, finisce malissimo. Dicevo, se dovessimo vincere dobbiamo scegliere una nuova nazionalità per il calcio mercato. Andiamo in campo sempre sul pezzo a forza Falkenbergs. Cioè, ma voi vi rendete conto che abbiamo la possibilità di giocarci un trofeo oggi? Potremmo alzare una coppa dopo cinque episodi? Già, ma non so se avete capito bene. Non c'è neanche la coppa. Forse non lasciamo niente, ma chissà dove ci porterà. Ah, no, è lì la coppa, eccola. Una bella tazza per la colazione. Fantastico, ragazzi. Possiamo andare. Ragazzi, vi ricordo che se non avete lasciato mi piace al primo episodio per sbloccare Polonia, Ucraina, eccetera, eccetera, potete farlo, potete andare a lasciarlo il mi piace, eh. Vala, cari. Chiesito, attenzione, si gira. Simi, simi, simi. Da fuori una finta sul mancino. No, niente, viene sempre rimpallato. Ma è una volta che gli danno la soddisfazione di tirarla a giro sta palla. Alla fine, Chiesito non si è rivelato un malus, ma un bonus. Il bonus Chiesito. No, bravo Erl... Mamma mia Erlansson, grazie al cielo esisti. Mikkelsen, è andato, ragazzi. Guarda lì al centro. Guarda che buco per Valakari. La scarpazzata. Nilsson. Mamma mia, Nilsson, si è preso le chiavi del centrocampo. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Eh, sì, è morto. Morto. All'asma. Se li suffai, attenzione. Ce l'ha sul destro. Se li suffai, lo può provare. Da fuori se li suffai. Mamma mia, che parata ha fatto Dalin. Allora, mi avete detto, fai battere i calci d'angolo ai terzini. Sì, avete ragione. Non ce l'avevo mica pensato. Da bravo stupidino. Mamma mia, che zitto. Ma di che forma ce l'hai la testa, vorrei sapere. Prima di tempo che si conclude qua, signori. Un paio di occasioni da entrambe le parti. Niente di che. Che zitto sta soffrendo di mal d'Africa, ragazzi. Io lo toglierei, metterei Hansen tutta la vita. Bravo, Noren. Valakari. C'è il taglio di Hansen. Attenzione, ragazzi, perché siamo pareti fortissimo. Mettila bene. Ma non ho detto mettila bene. Guarda, sta pala che non esce neanche. È mia, è mia, è mia. Hansen. Ma dai, non è neanche calcio d'angolo. Ti devi vergognare. Oh, vede, 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 vede. It's time, ragazzi. It's time. Allora, io sposto Valakari qua. Metto Vede. Tutta la vita. Friedolf. Al posto di Michelson. Ragazzi, si va a vincere. Oddio. Oddio. Burns. Burns. Garbet. Niente, Garbet. Tagliati i capelli, per favore, Garbet. Non è possibile che ogni colpo di testa che dai la tiri fuori. Cioè, che palla aveva messo Burns? Dai che ce l'ha regalata. Garbet. Hansen. Non ci credo, Dalin, ragazzi. Ma io sono senza parole. Bellissimo. Ho letto un commento negli scorsi episodi. Vede, sembra quasi un calciatore normale. Sono morto. I commenti sotto questi video mi stanno facendo crepare, veramente. Però concentrati, ragazzi. Non molliamo un centimetro. Erlacione! Ma ragazzi... Ma ragazzi, ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto che ha fischiato il rigore. Ci rendiamo conto che ha fischiato il rigore. Ma io ho... Non so... Il mimo. Madonna mi... Guarda. Guarda Toivonen. Guarda. Guarda Toivonen. L'avevo parata, eh. L'avevo parata. L'avevo parata. L'avevo parata. Non so se ci sarebbe... Mamma, quanto posso godere? Ma che parata ha fatto Erlansson prima? Fridolf. Oddio. Oddio! Ma... Ma comunque... I tiri di questi ragazzi hanno... Prendono una tirata. Ma c'è una fisica particolare in questi ragazzi. Una fisica particolare. Finisce qui, signore. Oh, noi ce la stiamo giocando con il malmo. Ce la stiamo giocando. Alla pari. Sì, alla pari. Alla pari! Alla pari. Allora, ha avuto... Mamma mia, se li su fai. Ah, poi... Mamma, facchi neri, ragazzi. Poi in tantissimi mi avete chiesto a mezzo ma perché non cambi ruolo? Perché non metti due punte con gli esterni? Perché sennò, ragazzi, si finisce per giocare sempre con gli stessi moduli. Volevo variare un pochettino. No, no, re. Ragazzi, ma avete visto la chiusura che ha fatto? Mostruosa. Fridolf! Hai una stagione da riscattare, Fridolf! 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 Ha riscattato una stagione! Con una scoreggiata sul pallone! È 1-0 Falkenbergs! Ha segnato Fridolf! Come faccio a metterlo nella miniatura? Non ci saranno neanche le sue foto. Guarda... Mamma mia, ragazzi! Oddio, il Falkenbergs è vicino a fare la storia dopo neanche 5 episodi. Ma ha tirato in una maniera indecente, indecorosa. Marasmus Fridolf è l'eroe. L'eroe di cui non avevamo bisogno, ma che ci fa comodo, ecco. Oh mio Dio, ragazzi. Primo tempo che si conclude qua. Mi sembra esagerata questa cosa, Erlansson! Do something! Do it! Non ho capito. Ma non ho capito cos'è accaduto, sinceramente. Non ho capito perché il mio difensore è scappato. Non ho capito perché Erlansson non è uscito. Non ho capito perché non è fatto... No! Non dovevo andare così! Fridolf doveva entrare nella storia! Possiamo resistere 5 minuti? Cioè, ma non ho capito. Questi sono entrati in campo con il sangue... con il coltello fra i denti per questi ultimi... No! No! Oddio, ragazzi. Grazie al cielo non ha dato rigore. Non ha dato rigore. Puoi diventare ancora il nostro eroe, Fridolf. Vede! Burse! E assist! E assist! Di Burse! Madonna d'Alene, ragazzi. Ho già fatto delle parate su questo portiere qui, però che non ha senso. Fridolf. Ericsson. La puoi mettere bene! Madonna mia, vede, però. I brividi mi sono venuti. È finita? Finisce qua, signore. Finisce qua. Potevo... Ce la giochiamo in rigore. Attenzione, perché c'è il mimo, ragazzi. C'è il mimo in porta. Il mimo. Ma perché ci sono così tanti sponsor sulle nostre magliette? Non lo so. Oddio. Vede, 55 di rigore, però non me l'aspettavo. Vede. È il mimo. Ma dai, ma come centrale, frate. Hansen. Piano piano, eh. Piano piano, Hansen. Mamma mia! Il mimo. Il mimo! Ah, toivonen. Ti voglio fare i miei complimenti, toivonen. Ti voglio fare veramente i miei complimenti, perché li batti bene i rigori, sì. Garbet, sempre di qua, Garbet. Non esageriamo, perché i piedi sono quelli che sono. E siamo in vantaggio! Il mimo. Contro Cholak. Vabbè. Io me la gioco così, allora, eh. Balacari! Dai, ragazzi! Il mimo. Se segniamo questa è fatta, raga. Se segniamo questa è fatta. Sì, lì su fai. È tutto nel tuo destro. Sì! Sì! Lì su fai! Abbiamo vinto la coppa! Abbiamo vinto la coppa! Abbiamo vinto la coppa di Svezia, ragazzi! Dopo cinque episodi, il nostro primo trofeo, con questi pipponi! Con questi pipponi! Con la scella pezzata, costantemente, per la fatica. Non ci credono neanche loro! Non ci credono neanche loro! Il Falkenberg si è campione di Svezia! Ma non siamo pronti per questa notorietà, ragazzi! Non siamo pronti per finire sui giornali! Noi siamo ancora acerbi! E non Francesco! Campiones! Ma campiones, ragazzi! Non ci credo! Oh, signore mio! Beh! Ragazzi, bisogna iniziare a pensare alla nazionalità da sbloccare, allora! Ma ne parliamo dopo! Ne parliamo dopo! Ne parliamo dopo, ragazzi! Perché? Perché c'è una coppa ad alzare! Ma chi l'alza? Facchineri! Facchineri! Che si è preso il Falkenbergs! Guardalo lì! Con questo fisico, già da professionista! Alza la colazione! La tazza della colazione! Ci vede dentro i cereali! Ed esulta così! Il Falkenbergs è campione! Il Falkenbergs è campione! Ma dobbiamo ringraziare anche Erlinson, signori! Cioè, questo sembra... Fine, fine! Basta! Finita la carriera, raga! Finita la carriera! Che spettacolo! Ed eccoci qua! Campioni! Abbiamo vinto la Coppa di Svezia! Che bella realtà! Signori! E quindi non è successo l'impensabile, sinceramente! Non mi ero assolutamente preparato le nazionali da poter sbloccare con il sondaggio! Sondaggio che ci sarà sul mio profilo Instagram, ovviamente, ragazzi! Coach.menzo e Riccardo Menzolini-Basso Venitemi a seguire, mi raccomando! Nel frattempo noi proseguiamo! Le potrei scegliere in questo momento, poi magari leggo qualche commento e vi faccio sapere! Io pensavo a America, visto che abbiamo fatto il Canada, concludiamo un po' l'America del Nord Pensare proprio Stati Uniti, USA Mentre per quanto riguarda in Europa si potrebbe provare non tanto Ucraina, Polonia e Russia Perché quelle sono un pochettino più forti, potenti Pensavo più che altro a o Repubblica Ceca O tipo Montenegro o qualcosa del genere Siamo pronti per la partita contro l'Aken Che tra l'altro è a pari punti con noi, ragazzi Partita super importante, ma siamo distrutti! Distrutti! Quindi Englund e Özen E direi Van Lui Signori, direi che possiamo andare in campo così sempre sul pezzo E forza Falkenbergs Dai chi zitone! Occhio all'Aken che è parito fortissimo! Mamma, sti gol Io sti gol qui lì odio tantissimo, veramente Perché con la difesa non si riesce a far nulla E il portiere fa sempre fatica a pararli Mannaggia la misera l'Aken è in vantaggio Vedete? Perché difensivamente noi come facciamo a tenerlo? Perché i nostri difensori fanno quello che vogliono Oh, Fridolf ha preso coraggio, eh? Ha preso coraggio e capacità Fridolf! Boom No No, no, Fridolf Rasmus Ma come hai tirato? Ma pensavo entrasse Ma non ci posso credere! Ademi Chisitone Chisitone Chisitone, dagliela bene! Mannaggia la pup... Mmm C'è un buco, c'è un buco, c'è un buco C'è un buco Tipo questo, queste cose qui Bamma Erlansson, bravo No, 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 no Ragazzi Ma perché? Ma perché? Ve lo sapevo, vedete? Ci siamo montati la testa Guardate che schifo Guardate che imbarazzo Va lui! Hai capito perché non ti faccio giocare? Umiltà, ragazzi Umiltà Umiltà Fridolf Vede Ma vede! Oh, ah, vedete S'hai rincoglionito pure te Fridolf! Chisito Ma che pallaccia che gli ha dato Chisito, madonna mia Chisito Riscattala Bellissima! Mamma che gol che abbiamo fatto, ragazzi È 2-1 È 2-1 Mamma che gol che abbiamo fatto Mamma che gol che abbiamo fatto Mikkelsen Tanti gol in queste prime partite, devo dire Considerato che le difese sono scarsissime Ci può stare Ma tra l'altro, prima Quando ho parlato delle nazionalità Mi sa che ho detto ciecoslovacchia Ma intendevo Repubblica Ceca E tipo o Slovenia o Slovacchia Cioè Non so Regno delle due Sicilie Cosa del genere Non so Basta 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 E resto così Non è inutile Che tolgo un attaccante Sto perdendo Non so Vabbè che parlo anche questo di rigore Però Questa cosa qui è imbarazzante E si è inutile E si è inutile Abbiamo preso la rumba Ragazzi Abbiamo preso la rumba Abbiamo preso la rumba Dall'Aken Mannaggia la miseria Bisogna tornare subito Umilissimi Bisogna tornare subito Umilissimi Si conclude qua signori Uno scontro diretto importantissimo Che abbiamo totalmente perso Eh ma non ci siamo ancora eh È stato veramente un exploit Molto 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 raro Quello che abbiamo fatto prima A questo punto signori Abbiamo la parita contro il Werbex Noi siamo decimi Il Werbex è a 7 Oh mammina Dura eh Durissima Non stiamo seguendo i piani Madonna mi scassate già la ciolletta Eh no Questo lo falliamo Il profilo economico lo falliamo È scritto Si sa Quindi anche nel prossimo calciomercato Ragazzi io andrò a comprare Andrò ad acquistare Chiesetto Facciamo che ti siedi un pochetto in panca Dai facciamo così L'emmk è sempre sul pezzo ragazzi E forza Falkenberg Forza per l'ultima partita di oggi ragazzi Madonna mia Ansel Ti prego Ansel Datti una regolata Perché va bene che c'hai 16 anni Però zio prete innevato Non è possibile Englund Vala cari Sì l'esufai Englund Vabbè io tiro Sììì Englund 1-0 Bravissimo Bravissimo Era importante Sbloccarla E va bene così Al massimo ci facciamo Dei malus ragazzi Per rendere tutto più peperino Ma l'importante Era passare in vantaggio Visto Il 4-1 Della partita precedente Bisognava subito dare un segnale forte L'abbiamo fatto con Tobias Bravo vede Sì su fai Vede Mamma che palla per Michelsen Chi è che è morto là? Ma chi è che è caduto faccia a terra? Michelsen Michelsen Passa dal centro Hansen E 2-0 Sì Sì Importantissimo Importantissimo Bravi ragazzi Bravi ragazzi Veramente un peccato Non riuscire a fare Neanche mezzo obiettivo Ma va bene cos'è Bravo Bravissimo Michelsen Bravissimo Ademi Ha recuperato anche questa Valakari C'è il taglio di Sili su fai Servito perfettamente Prova a scartare il portiere sui su fai La mette in mezzo Valakari Credici Ma credici Valakari Attenzione Englund C'è il taglio Di Sili su fai È buonissimo E c'è l'assist Di Englund 3-0 Falkenbergs Alla fine del primo tempo Ma quello che può succedere in questo campionato Ma d'altro che palla gli ha dato Spettacolare Gran palla Gran palla È 3-0 C'è veramente Può succedere di tutto Tanti gol fatti Tanti gol subiti Ma almeno ci divertiamo Difese Difese da capogiro E di Sili su fai È 3-0 Mikkelsen Guarda che bella palla per Ademi Valakari Guarda di là che c'è Burns Mannaggia tua Mamma Valakari Scusate Non volevo insultare la madre Però Mi è uscita così Ademi Me la smisti bene Garbet Occhio a Burns Occhio a Burns Sili Non ci credo che si è fatto Anticipare da Birkfeld Non ci credo Dai Englund Che stai facendo un partitone Fammi un altro assist Garbet È tutto buonissimo È tutto buonissimo Vai Ad abbracciare Englund Non è solo assist di Englund E quindi il terzo su quattro Ma è anche il primo gol da calcio da fermo Signori Garbet finalmente Garbet finalmente Con calma che diventiamo forti Sta dicendo Bellissimo il calcio d'angolo Bellissimo il terzo tempo Grande presa di tempo di Garbet Che anticipa tutti No ragazzi Questi sono veramente scarsissimi Ecco No vabbè ragazzi Si sono svegliati eh Si sono svegliati Si sono svegliati Erlanson 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 Anche se questa volta non l'ha parata Ma Erlanson Facciamo entrare Ericsson Va che magari mi dà una buona spinta Ma cosa ha fatto Erlanson Signori E si conclude qua Signori Si conclude qua Ci ripigliamo dal 4-1 subito in precedenza Con un bel 4-1 potente Bravissimo Englod Senza dubbio migliore in campo Gol e due assist Gol e due assist Fenomenale 13 punti Siamo sempre tutti lì Abbiamo il resoconto della primavera Abbiamo sempre Luke Campbell Sempre 15 anni Ma Piano di crescita Arca puttana non gliel'avevo dato Laterale offensivo Mentre a Coleman Laterale Ok Non vorrei si fosse buggato Vabbè Non mi sembra che stiamo crescendo Aggiornamento mensile Haugen Ingazziamolo Questa è una squalifica Poi abbiamo Vede Che si preoccupa Ma non ti devi preoccupare Andiamo a vedere Haugen Diamogli un piano di crescita Potremmo anzi Potremmo già Comunque Promuoverlo E provare a venderlo Per fare qualche soldino Come mi avete Consigliato voi E come detto ragazzi Inizia giugno Non vado avanti Perché voglio fare gli allenamenti Facciamo un salto Per quanto riguarda I piani di crescita Perché Erlansson Comunque Sta diventando un 65 E lo sta facendo Davvero molto bene Devo dire Davvero davvero Molto molto bene Bravo Englund Bravissimo Noren alla fine Un bel più 3 Lo teniamo stopper Che mi migliora Fisicamente Potremmo migliorarlo Anche un po' Cioè lo sto migliorando In stopper Che così mi migliora In velocità e accelerazione Visto che spesso Lo utilizziamo come terzino destro Più 2 per facchi neri Ottimo Teniamo Teniamogli questo piano di crescita Più 2 per Nilsson Nilsson non è male in game Vi dico la verità Non so quanto potrà crescere Avendo 20 anni Burns invece Tanta roba ragazzi 16 anni Burns 16 anni Potremmo migliorarlo Anche lui Nella velocità scatto Visto che spesso Lo mettiamo terzino Quanto ci mette a diventare terzino 45 settimane Addemi più 4 Addemi più 4 Zitto zitto Leader È il piano di crescita Che fa per lui Devo dire Valakari più 2 Fidolf più 1 Mikkelsen più 5 Ha un buon valore Più 7 per Abramsen Più 2 per Garbet Più 2 per Kizito Più 5 per Hansen Che ci mette Ancora tanto A diventarmi un'ala Vero? Alla sinistra Ancora 33 settimane Se Nilsson fa Invece più 3 Diventa Un 66 Molto bene Sai quanto ci mette A diventare un'ala Scusami 57 settimane Per il momento Restiamo così Per il resto ragazzi C'è da votare La nuova nazionalità Io opterei per Slovenia O Slovacchia Repubblica Ceca E America Fatemi sapere cosa ne pensate Spero ovviamente Che questo episodio Vi sia piaciuto Abbiamo fatto un tot di obiettivi A giugno Avremo due partite E basta Ma Va bene Contro Lelsinborn Non mi ricordo come si chiama E il Kalmar E poi avremo Il calciomercato Quindi nel prossimo episodio Calciomercato Con la nuova nazionalità E quindi Io nel prossimo episodio Non solo Potrò acquistare Giocatori anche Da un'altra nazionalità Ma Tenderei anche a Ritirare i miei osservatori E anzi Lo potrei già fare In realtà Solamente con Lui Che mi ha portato Un norvegese Lo richiamiamo Lui invece Aspetto Che mi ritorni Magari Con il resoconto E poi Lo manderemo Da un'altra parte Per quanto riguarda L'obiettivo invece Della giovanili L'abbiamo già fatto Infatti Acquista due giovani E schierali In dieci parti Dall'inizio L'abbiamo fatto E quindi La crescita giovani L'abbiamo fatta Mentre La finanza Ancora no Non so se ce la faremo Ragazzi Anche perché Come detto Io in questo mercato Voglio spendere Signori Spero ovviamente Che questo episodio Vi sia piaciuto Spero che questa carriera Vi stia piacendo Io ci sto mettendo Tutto il mio impegno Se risu fai Il capo cannoniere Per il momento Noi ci vediamo Al prossimo video Lasciate un viaggio Commenti o consiglio E andate a votare Sul mio profilo Instagram Riccardo Menzoni Trattino basso Mi raccomando Alla prossima